Il Calatabbiano perde sul campo della Ionica per due reti a uno nella terz'ultima giornata del campionato di promozione Girone C. Per l'undici di Graziano Sapienza è sfumata l'ultima opportunità di agganciare il treno dei play-off. In casa Calatabbiano nessuno si illudeva più da tempo, anche se la vittoria tre settimane fa in casa del Messana aveva dimostrato come i calatabbianesi siano stati in grado durante questo campionato di giocarsela con tutti. Non basta il gol di Enrico De Carlo a Santa Teresa Riva al Calatabbiano per giocarsi una gara complicata. Resta adesso solo una partita da disputare nel compito di una stagione che resta comunque ampiamente positiva con il quinto posto che nonostante non abbia dato l'accesso ai play-off in virtù della regola dei dieci punti, resta comunque un traguardo prestigioso per una matricola.